Sarebbe dovuto essere l'ardito del Rione Badia, Matteo Martelli, ad aprire le ostilità nella giostra della sfida di ieri sera al campo degli giochi di Foligno, ma la pioggia ha scombinato i piani dei Quintanari e nonostante l'attesa il temporale nel pomeriggio e la conferma alle 18 che si sarebbe comunque giostrato, alle 19 è arrivato lo stop insieme alla consapevolezza che le partecipazioni non si sarebbero arrestate. Così dopo un corteo graziato dal maltempo i Quintanari dovranno attendere sabato prossimo quando alle 21 finalmente si giostrerà senza corteo il giorno precedente. Resterà l'ordine di partenza sorteggiato nel corso del cerimoniale di benedizione dei cavalieri e arruolamento di venerdì quando il serpentone barocco ha sfilato per le vie della città riscuotendo come sempre un grande successo di pubblico. Sabato dopo l'ardito del badia Matteo Martelli toccherà al Morlupo di Lucio Antici sul Rave Blank a seguire lo Spada con il binomio Gianluca Chichini e Negretti. Quarto a correre per il Cassero Francesco Scattolini su Sword Dream dopo il quale giostrerà uno dei due super favoriti Rione Giotti con Massimo Gubini su Lord Colossus, altro big della giostra per il Contrastanga correrà Luca Innocenzi che fino all'ultimo si riserverà la scelta fra guitto o torta di mele. Mentre per il Rione Lamora Lorenzo Paci cavalcherà Loaded Missile. Il plurivittorioso Croce Bianca sfiderà l'eterno nemico Giotti con Daniele Scarponi su Big More. Mente al Pugilli Pierluigi Chichini cavalcherà Gaggiano. A chiudere la giostra il Rione Ammanniti con Cristian Cordardi in dubbio se correre in sella ad Infantas o ad Agnesotta. Intanto su Facebook dopo il rinvio della giostra è divampata la polemica il quale sulla scelta di avere spostato la gara a causa di Italia Inghilterra. Una decisione rimproverata da molti dopo la biogge di rinvio della giostra. Critiche che parlano di mancanza di autorevolezza di una manifestazione che invece di badare a incassi e ingressi al campo avrebbe dovuto preservare il tradizionale calendario. Magari anticipando di un'ora o due la giostra mantenendole notturna ed in più installando maxischermi al campo degli giochi per consentire ai quintanari di tifare Italia tutti insieme. Critiche tardive ma che risvegliano il dibattito sempre acceso sulle sorti della manifestazione più amata dalla città.